Grazie a tutti amici, USAJUTS 90... Che vorreste vedere su FIFA e a questo punto, visto che la lista è davvero grande e devo fare delle volte delle selezioni per scegliere chi portare prima, chi portare dopo, chi fare, chi non fare, in questo modo commentate con quale o quale giocatore vorreste avere su FIFA e il giocatore che otterrà maggiori commenti o maggiori like, il commento quindi che verrà più votato, sarà il prossimo giocatore ad uscire. Mi raccomando, quindi questo tenetelo ben impresso. Bando alle ciance, passiamo con la costruzione, la creazione di Julian Christoffersen. Nome Julian Christoffersen nel cognome, ovviamente come tanti di voi mi avete segnalato, Christoffersen intero, non ci sta, manca una E e quindi ho deciso proprio di sacrificare quella lettera lì per non ovviare troppo al nome, anche perché alla fine Christoffersen, diciamo che resta comunque abbastanza simile, invece togliendo una F o togliendo un'altra lettera forse si sarebbe persa un po' la concezione generale, quindi opterei per togliere la lettera E. Numero su di Isa Christoffersen, numero 19, norvegese, salernitana, è nato il 10 maggio del 1997. Passiamo al fisico, abbiamo 198 cm per 83 kg, quindi un colosso norvegese in stile Holland. Attaccante, attaccante, attaccante centrale, piede destro, passiamo agli attributi attacco 25, 60, 70, 60, 40, 2, difesa 25, 15, abilità 55, 30, 25, 50, 60, Potenza, 60, 35, 60, 80, 55, movimento 55, 45, 50, 65, 40, mentalità 55, 20, 70, 60 e 65. Passiamo adesso alla testa, ragazzi, per quanto riguarda la testa non è stato facile costruire il volto, in particolare gli occhi, spero di essersi andato il più verosimilmente vicino, però bisogna sempre arrangiarsi e basarsi un po' sulla nostra creatività. Come carnagione selezioniamo questa qui, sopracciglia selezioniamo il nostro carissimo secondo modello, che trasformiamo in questo modo, Occhi selezioniamo, partendo dal fondo, il quinto modello, che trasformiamo in questo modo, Naso, primo modello presente, che andiamo a costruire così, Bocca, selezioniamo il secondo modello disponibile, che andiamo a modificare in questo modo, Guance e mascella, selezioniamo il primo modello disponibile, lo andiamo a trasformare così, Mento, Orecchie, selezioniamo questo modello qui, ma lo lasciamo abbastanza inalterato, quindi possiamo lasciarlo perfettamente così com'è, Cappelli, andiamo in accessori, E selezioniamo questo terzo modello presente, Che andiamo a colorare in questo modo, Infine, barba, mettiamo questo modello qui, il secondo della seconda fila, che coloriamo anche in questo caso con un castano marrone, Non troppo scuro, neanche troppo chiaro, E quindi abbiamo costruito il nostro Julian Christofferson. Ragazzi, il video termina qua, spero vi sia piaciuto, spero stato di vostro gradimento, Vi ricordo che il prossimo giocatore ad uscire sarà il giocatore più commentato o più votato, appunto, da voi stessi nei commenti qui sotto al video, Quindi datevi da fare, perché il prossimo giocatore ad uscire dipenderà da tutti voi. Spero che il video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, E continuate a seguirmi, con Julian Christofferson è tutto, da RG99 vi saluta e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!